Che cosa sappiamo? Gli sbirri ci accusano di aver spaventato Clarence Fisk. La polizia di Los Angeles gli darà la caccia senza di noi. Ha sciolto la task force. Dix ha agito correttamente. Il nostro obiettivo è ancora a piede libero con 20 panetti di RDX. Dix ha ucciso un uomo disarmato. Lui è della polizia di Los Angeles, non della NCIS. Se la vedranno loro. Finirà tutto nel dimenticatoio. Dix potrebbe essere sospeso. Non credo per molto. Nel frattempo sarebbe la cosa migliore. La cosa migliore? Per mettere un po' di distanza fra noi e la polizia. Fisk è in ballo da fin troppo tempo. Forse ha una talpa, ha coltivato una fonte. Agiremo meglio senza di loro. Catturiamo Fisk e recuperiamo l'RDX prima che lo venda agli ariani. E riguardo a Dix? Dovremmo trovare un modo per aiutarlo, no? Possiamo offrirgli il nostro sostegno morale, ma non molto di più, Kenzie. Potrebbe mettersi male. Peggio di così. Grazie. Grazie.